Sicuramente felice di questo nuovo incarico, io sono anche il collaboratore della consigliera regionale Marta Ruggeri di Fano e quindi questo è un altro tipo di collaborazione che posso fare oltre che con il consiglio regionale adesso anche con un consiglio comunale, in questo caso a 5 stelle della sindaca Cinziaferri. Allora da neoassessore ci ho tenuto che si facesse questa intervista in questo luogo, perché? Semplicemente perché qui siamo al confine, ora all'inizio qualcuno ha detto beh la sindaca ha deciso di prendere un assessore da fuori, no in realtà io sono molto più vicino di quello che uno può pensare perché qua in questo luogo siamo esattamente al confine fra Monte Labate, Pesero ma anche Urbino. I primi obiettivi del suo nuovo incarico? Beh sicuramente la sindaca e il vice sindaco Luca Faroni mi hanno chiamato in particolar modo per seguire la questione insomma dei rifiuti, è una cosa che loro ci tengono molto, hanno intenzione di portare avanti alcuni progetti su questo tema e quindi io mi dovrò interfacciare tanto con ATA che ricordo che è l'assemblea di tutti i sindaci che si riuniscono quando parlano di rifiuti sia con Marche Multiservizi che il gestore dei rifiuti del comune di Monte Labate ma in realtà di quasi tutta la provincia di Pesero Urbino e quindi io mi interfaccerò con loro. Un argomento di cui si parla molto in questo periodo è quello delle biodigestore che interessa la vicina Vallefoglia a Monte Labate e le sue considerazioni merito da neoassessore all'ambiente. Allora sul biodigestore se ne stanno dicendo tante, il Movimento 5 Stelle ha prodotto un documento programmatico il Movimento 5 Stelle a livello provinciale quindi della provincia di Pesero Urbino dove praticamente insomma in particolar modo la consigliera regionale Marta Ruggeri ha voluto che ci si sedesse tutti i gruppi della provincia di Pesero Urbino del Movimento 5 Stelle attorno a un tavolo per capire insomma quali erano le intenzioni riguardo questa tematica così importante. Io personalmente sono favorevole a un biodigestore industriale non mi interessa se parliamo di biodigestore industriale non mi interessa la tecnologia, si parla dell'anaerobico, si parla dell'aerobico non mi faccio trascinare dietro questo argomento l'importante però è una cosa è che deve essere un biodigestore dimensionato e non sovradimensionato come viene proposto da più parti e in particolar modo dimensionato riguardo a che cosa? riguardo ad una legge regionale del 2020 che parla dei compostori di prossimità bene quindi un biodigestore industriale in concomitanza assieme affiancato da biodigestori di prossimità può avere un senso un solo biodigestore industriale che deve coprire il fabbisogno dell'intera provincia addirittura anche di fuori regione beh a questo io dico no grazie a tutti